ma non è bella ma non te va bene te vado con il gioco manco no no non fa bella non mi spaccate le macchie ma tranquillo una bella questa è la bella t'ho cacciato subito il 15 diretto le fa privati diciamo che mi sono cacciato un po' Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. No. No.